Salve carissimi io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video Se cliccato a questo video probabilmente o hai fame o hai bisogno di soldi come Donnarumma e la Grecia E infatti in questo nuovissimo video andremo a vedere i vari metodi per prendere soldi gratuitamente dai bancomat E prendere bibite e snack dalle macchinette Senza pagare Come primo metodo come avete già visto serve un metro quello di alluminio Lo mettete da dove si prendono le bibite e gli snack e poi pam lo tirate e rischiate il carcere per una lattina di un euro Scommetto che adesso lo snack che sta giù verrà toccato da uno snack che sta sopra e poi cadono tutte e due Già me lo sento perché chi è che non l'ha fatto dai chi è che non l'ha fatto Andiamo avanti Che vi avevo detto Tac Prossimo video Oggi vorrei mostrare una cosa molto strana Cioè ragazzi quella è una tessera dell'IKEA ci rendiamo conto? Stranamente mi ha accettato la tessera Quindi ho inserito la tessera IKEA Stranamente mi ha chiesto il PIN della tessera Quindi la tessera non ha un PIN Ho inserito un PIN a caso E stranamente mi ha chiesto anche la cifra da prelevare Ho scherciato 50 euro Ho confermato l'importo dei 50 euro E dopo pochi secondi come un classico prelievo Escono i 50 euro dello sportello Come in questo caso Praticamente con questa clip video abbiamo capito che quando andate all'IKEA non dovete fregarvi le matite come ho fatto io Vedete? Dovete farvi la tessera dell'IKEA Metti like e io le lancio Poi le dovrò prendere tutte Se volete vedere la fotografia delle matite per terra basta cagate su Instagram Perché ho appena messo un Instagram Stories dove le faccio vedere Prossimo video Ragazzi oggi faremo vedere come prendere cose gratis dal distributore Va bene vediamo spero che non sia una cagata vai Che dobbiamo prendere? Prendiamo le M&M's vai Le M&M's questi giusto? Le M&M's Senza mettere soldi eh Alla M&M's sono 33 Prima prendiamo le M&M's Poi Secondo me il fatto di spingere tre volte il resto è una minchiata Mettiamo 33 Aspetta riprendi Guardate Magicamente Gratis Ragazzi per favore me la spiegate sta cosa perché ha premuto il tasto del resto Quindi di conseguenza sarebbero scesi i soldi che lei ha messo Però ha spinto il tasto 33 e gli M&M's come ha detto lei sono scesi lo stesso Adesso vi dimostrerò come Prendere un cioccolato Milka con un codice apposta che lo prenderete gratis Un codice apposta e alla banca Il codice è 1,2,3,4,1,3,4,2 Adesso mettiamo tipo il codice della Milka Milka A25 A25 E la Milka A25 E tutto questo è gratis Questa ve la spiego io hanno messo già i soldi solo che se metti il numero a caso senza mettere la A prima non ti fa scendere nulla Però ora andiamo a vedere l'ultimo video Ciao a tutti amici youtube Oggi Oggi Aspetta lo voglio risentire oggi 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 E saluta Antonio E saluta Antonio Oggi Ne abbiamo 11 Che un mio amico Mi ha insegnato un trucco Per 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 Un mio amico Mi ha insegnato Oh Che cazzo Mamma me Se poi vi capita di usare questo trucco Scrivetemi un commento e per piacere mi potreste dire se funziona o no Quindi ragazzi il codice che vi da scrivetevelo Andate qualche macchinetta provatelo E poi bestemmiatemi qui sotto nei commenti perché sicuramente è una cazzata Bisogna mettere nel distributore automatico il codice 00730093 E così si dovrebbe sbloccare Poi Ma questo è pugliese Poi Inserite il codice di un'altra cosa che ne so Una merendina, un po' di patatine, un suco di frutta E quello vi dovrà uscire gratuitamente Se in caso il trucco non funziona avvertitemi subito Grazie per Oh C'è la tos C'è la tos E' un Aver visto questo video E ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao 3 2 1 Quindi ragazzi il video di oggi termina qui Andiamo a salutare le ultime 5 notifiche di Instagram Se volete essere salutati nel prossimo video basta che mi seguite su Instagram E lasciate like quando pubblico una fotografia Quindi salutiamo Gabri Ferrito Pallons Detoma Vincenzo Saverio De Florio E Alessandro 2102 2002 Quindi ragazzi morale della favola di questo video è perché l'ho fatto È perché sul web ci sono tanti modi per fare soldi Che in realtà non è vero nemmeno uno E quindi l'unico vero metodo per avere bibite, snack e soldi Ve lo dico in barese Shata Fadga Però non prendete spunto da me perché io sono il cattivissimo esempio del lavoro Noi ci vediamo nel prossimo video Ti ricordo come sempre di lasciare un like Commentate con una prossima idea di video che potrei fare Mi raccomando rispondo a tutti i commenti Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Lasciate ogni speranza a voi che entrate E state Na 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 Di dove siete Come è che state Mi state bene E mi state Come è che state Come è che state